Teatri chiusi ma torna in forma digitale sul sito e su YouTube l'ottava edizione del festival della canzone per Leo, un'iniziativa che offre una scena a 20 giovani artisti che arrivano da tutta Italia, talenti esordienti che hanno il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo, un'opportunità offerta dal teatro Leo, amici del lago di Monte Colombo vicino a Rimini per continuare l'opera del fondatore e benefattore scomparso nel 1986, un festival senza vincitori, solo l'occasione per mostrare in pubblico le proprie capacità. Grazie